11 giocatori e la possibilità di cambiare addirittura tre moduli durante la gara. È il vantaggio che proverà a sfruttare Giovanni Cornachini per violare il Benelli domenica nel derby contro la Vispesaro. Gli 11 giocatori non sono ancora sicuri, ci sono acciacchi, infortuni, situazioni da valutare. I tre sistemi di gioco invece sono il collaudato 4-3-3, il recente 4-4-2 che può variare in un 4-2-3-1. Anche il test in famiglia giocato a Borghetto ha dato alcune indicazioni. Nel primo tempo, davanti a Lori, hanno giocato Barilaro, Mallus, Capparuccia e Didio. Cacioli, con la caviglia malconce, è rimasto a guardare, ma rientrerà venerdì e Cornachini è sicuro di poterlo schierare domenica. A fargli posto, Capparuccia. In mezzo al campo, provati i bambozzi da Alessandro e Marfia centrale. Quest'ultimo è in vantaggio subiso, ma si sa che è sempre difficile rinunciare al capitano. D'Alessandro invece è in pole per prendere il posto di Diceglie, l'ex Lecco è aletto con la febbre alta, per questo è in forte dubbio per la vis. Infine Bambozzi ritroverebbe una maglia e, per la regola degli under, gliela lascerebbe Pazzi, che ha una fastidiosa distorsione al ginocchio. In avanti, Sivilla e Bondi sugli esterni con Tavares centrale. Basterebbe a centrare da Alessandro a Marfia, allargare Bambozzi sull'out di sinistra, abbassare Sivilla dalla linea degli attaccanti a quella di centrocampo e affiancare Bondi a Tavares per poter passare al 4-4-2, se mai ci fosse bisogno. Eventualmente, Cornachini potrebbe anche far agire Bambozzi, Bondi e Sivilla alle spalle di Tavares e trasformare la squadra in un 4-2-3-1. 11 giocatori e tre moduli diversi, l'Ancona camaleontica pur di espugnare Pesaro.